Andiamo subito a quelli che saranno i protagonisti di questa prima tavola rotonda. Invito sul palco Alessandra Franzosi, Head of Pension Funds and Asset Owners Capital Markets del London Stock Exchange Group, quindi autentica padrona di casa. Potete passare anche infatti da quel lato. Stefano Colombo, Institutional Business Development Director Italy and Iberia di Legmason. Bravi, fate sentire il vostro calore giustamente. Abbiamo poi Libero Giunta, responsabile della funzione finanza del fondo pensione Cometa. Joseph Camilleri, Executive Head di Bank of Valletta Asset Management. E, dulcis in fungo, Andrea Mariani, Direttore Generale di Pegaso Fondo Pensione Complementare. Eccoci qui. Prima di cominciare, un paio di note tecniche che vi riguardano anche da vicino. Ovviamente voi ascoltate bene quello che diranno i nostri relatori perché al termine per questo chiederò la puntualità anche a loro per avere lo spazio anche per porre loro delle domande. Ma al di là di questo vi vogliamo rendere un po' protagonisti, tant'è che abbiamo adibito nel foyer una zona dedicata ai consulenti finanziari in modo tale che voi lasciate un videomessaggio. Le fonti si contraddistingue per le fonti TV e lì troverete la nostra Alessandra Leone con una serie di domande legate al mondo della consulenza e vi chiederà di rispondere magari a un paio di queste. Ecco, tutto questo materiale verrà utilizzato poi per un servizio dedicato alla consulenza finanziaria sulle fonti TV. Per cui siete anche voi i protagonisti. Questo era un po' il messaggio che volevamo lanciare. Stiamo anche iniziando a realizzare alcune video interviste che saranno proiettate in diretta sulle fonti TV per cui iperconnessi come si diceva anche nell'introduzione della nostra Angela Maria Scullica. Ma veniamo alla nostra tavola rotonda. Innanzitutto grazie per essere qui ai nostri relatori. Fondi pensione e gestione patrimoniale, modelli di investimento innovativi. Per cominciare io chiedo proprio ad Alessandra Franzosi che è un po' padrona di casa, possiamo dirlo, proprio per il London Stock Exchange di dare un inquadramento rispetto al peso degli investitori istituzionali in Italia, degli asset che sono coinvolti e di quelle che sono le principali strategie di asset allocation che vedono coinvolti appunto gli investitori istituzionali tra cui ci sono anche i fondi pensione. Certo, grazie mille Alessia per questa opportunità e benvenuti a tutti in Borsa Italiana. Noi è oramai diversi anni che lavoriamo in stretta connessione con gli investitori istituzionali domestici e lo facciamo, l'abbiamo fatto e lo facciamo nella convinzione che sia estremamente importante per lo sviluppo del mercato dei capitali di questo paese poter avere un importante alleato nell'allocazione delle risorse e della ricchezza domestica, soprattutto di quella istituzionale poiché quella istituzionale si muove con logiche di più lungo termine e con un livello di professionalità che sicuramente ci aiuta in quello sforzo di innovazione reso necessario proprio dai tempi e dal modificarsi della modalità di funzionamento del mercato dei capitali. Se alcuni anni fa era facile raccontare la storia che il nostro paese non aveva investitori istituzionali e che questa era una delle cause del sottosviluppo del mercato dei capitali e così via io credo che bisogna dare atto alle persone poi presenti quest'oggi a questo tavolo che questa storia non corrisponde più al vero, le cose si sono profondamente modificate soprattutto nel corso degli ultimi dieci anni, è vero probabilmente non stiamo ancora parlando delle size comparabili a quelle delle realtà internazionali ma è anche vero che la nostra storia è diversa e quindi queste comparazioni spesso lasciano il tempo che trovano però i numeri e i comportamenti si sono piano piano modificati faccio l'esempio dei fondi pensione, gestivano 20 miliardi di euro più o meno nel 2000 siamo oltre i 170 quest'oggi a cui aggiungiamo altrettanti 80 delle casse degli enti di previdenza quindi lato investitori previdenziali abbiamo più o meno 250 miliardi a questi possiamo aggiungere le fondazioni bancarie, una quarantina per non parlare poi di tutto il mondo delle assicurazioni e se si vuole in senso lato addirittura del mondo delle gestioni patrimoniali della fascia medio alta poi dei risparmiatori ma non è secondo me solo una questione di numeri è proprio una questione di cambiamento delle modalità di operare io ho la fortuna di poter spesso essere in contatto con gli investitori previdenziali del nostro paese oramai sono investitori che sono organizzativamente preparati per affrontare la complessità di una diversificazione maggiore delle loro asset allocation hanno ancora asset allocation che investe effettivamente in modo aggregato sono molto spostate sul debito e sul debito governativo ma anche questo trend è in riduzione a favore di una maggiore apertura degli investimenti nei confronti degli alternativi o nei confronti comunque di temi maggiormente sofisticati quindi quello che è un pochino il mio messaggio quest'oggi è che siamo in una sorta di seconda fase secondo me nella narrativa e nella storia degli investitori istituzionali del nostro paese dove una prima fase dove bisognava in qualche modo irrobustirsi sia dal punto di vista delle quantità che dal punto di vista dei comportamenti è stata in parte superata e ora ci sono tutte le condizioni ottimali per effettivamente arrivare un po' alla frontiera e poter alla fine utilizzare al meglio il mercato dei capitali perché è quello il senso di essere un investitore istituzionale che persegue i suoi obiettivi finali attraverso l'investimento nei mercati finanziari ecco direi che ci ha dato la panoramica anche numerica ma soprattutto di evoluzione che sta affrontando il mercato anche se possiamo dire in parte rivoluzione da un punto di vista culturale verso nuovi asset che prima non erano magari considerati ecco con Stefano Colombo, Institutional Business Development Directory di LegMason andiamo proprio nel concreto a come un gestore nel vostro caso dove vede valore per la clientela istituzionale in un contesto attuale di mercato dove sappiamo l'ambito obbligazionario non può garantire grandi rendimenti e quindi ci sarà la necessità magari di spostarsi altrove grazie Alessia assolutamente diciamo che come anticipavi tu l'attuale contesto di mercato vede una crescita globale limitata ma comunque persistente condizionata da quella che è stata l'attività delle principali banche centrali a livello globale quindi la Banca Centrale Europea, la Fed, la Bank of Japan che con la loro politica di tassi bassi e con il loro round di quantitative easing hanno portato all'attuale contesto di tassi molto bassi e soprattutto per un investitore istituzionale si trova nella situazione di affrontare il problema di dover matchare liabilities sul lungo periodo in un paradigma nuovo di tassi bassi e obbligazioni con rendimenti nulli o addirittura negativi se pensiamo ad un investitore istituzionale in Europa il tradizionale playground quindi il contesto obbligazionario europeo investment grade è caratterizzato principalmente a parte il mercato domestico da tassi sotto lo zero e quindi si rende necessario guardare un po' oltre i confini tradizionali del proprio universo investibile se vogliamo entrare un po' più nello specifico per quanto riguarda la nostra view da un punto di vista obbligazionario come dicevo vediamo un continuare di questo contesto di crescita bassa ma resiliente supportata dalle banche centrali a livello globale che ci portano a favorire quelle sacche all'interno del mondo obbligazionario che ancora offrono rendimenti reali positivi e pensiamo ad esempio ai mercati emergenti tuttavia diciamo che l'approccio tradizionale è quello che un po' deve essere messo in discussione secondo noi nel mondo obbligazionario l'approccio che deve iniziare a prevalere è quello più unconstrained che consente quindi di essere molto dinamici e tattici nel cogliere quelle che sono le opportunità che si vengono a creare sui diversi segmenti del mondo obbligazionario nell'universo investibile ma soprattutto essere in grado di proteggere il portafoglio da quelli che possono essere i rischi rischi che strategie long-golly non sono in grado di limitare se ci spostiamo invece sempre in un contesto favorevole ai rischi asset sul mondo azionario attualmente vediamo una diversità di valutazioni ai massimi degli ultimi 50 anni tra azionario Europa e azionario statunitense e solitamente queste sono delle condizioni che favoriscono come entry point su un particolare segmento Asia, Giappone e mercati emergenti invece saranno più condizionati da quella che è l'evoluzione del trade war quindi un'evoluzione positiva sicuramente favorirà questi segmenti come altresì un indebolimento del dollaro anche qui secondo noi un approccio fortemente attivo può aiutare a identificare quelle società caratterizzate da una qualità elevata caratterizzate da business sostenibili e in settori destinati a crescere per i trend secolari che possono aggregare meglio eventuali fasi di turbolenza come dicevo all'inizio però è proprio il panorama che deve essere ampliato in termini di asset class in termini di quello che deve essere l'universo investibile il playground per gli investitori istituzionali e quindi il tema dei private markets private markets che secondo noi trovano negli investitori istituzionali un interlocutore perfetto perché sono caratterizzati da tempi di detenzione sicuramente più lunghi rispetto a quello che è il tema dei public markets che ben si sposa con la poca necessità di liquidità degli attori per esempio previdenziali anche qui però non è un tema facilmente investibile facilmente trattabile e quindi sono sicuramente necessarie risorse e player specializzati in questo ambito come Legg Mason abbiamo deciso di investire soprattutto in real assets andando a creare una piattaforma di asset based lending all'interno di una delle nostre affiliate Entrasglobal e andando ad acquistare ormai tre anni fa Clarion Partners che è una società specializzata in US e Global Real Estate Global Real Estate che per esempio negli ultimi anni è sempre cresciuto all'interno dei portafogli degli investitori istituzionali arrivando oggi a pesare circa il 10,5% quindi comunque una componente importante una componente in grado di creare diversificazione e di generare income a beneficio appunto di questo tipo di investitori quindi in sintesi diversificazione e approccio attivo diversificazione e approccio attivo a questo punto prima di passare a libero giunta a cui vorrei proprio chiedere se un tipo di approccio di questo tipo si può anche attanagliare a quelle che sono le vostre esigenze ma a riprova ulteriore di quanto diceva Stefano Colombo anche delle recenti e recentissimi studi come anche un'altra realtà dell'investimento Aviva Investors ha presentato rispetto al mondo dei real asset ed è emerso come secondo la risposta di 500 top manager di assicurazioni e fondi pensione si segnala che il 51% delle compagnie assicurative il 37% dei dirigenti dei fondi pensioni prevedono di aumentare i loro investimenti nei real asset e dietro questa strategia c'è proprio un concorso di fattori che comprende oltre all'incertezza relativa alla crescita globale la probabilità che i tassi di interesse rimangano bassi per un lungo periodo quindi direi che è perfettamente in linea Ecco, libero giunta responsabile funzione finanza del fondo pensione Cometa per agganciarci subito a quello che diceva Stefano Colombo voi come gestite i vostri portafogli e magari si può dire due parole di cosa si occupa comunque il vostro fondo Allora innanzitutto grazie per l'invito e la possibilità di dialogare anche tra i due mondi che deve essere, come è stato detto anche nell'introduzione aumentare il livello di dialogo tra cliente istituzionale e gestore come gestiamo appunto attualmente i portafogli e qual è l'evoluzione che si attende Cometa mi ritrovo molto nei due precedenti interventi innanzitutto dal punto di vista di Cometa Cometa che è il fondo pensione dei metalmeccanici e questo è anche importante per l'aspetto dei real assets noi abbiamo all'incirca 11 miliardi più di 11 miliardi in gestione abbiamo un tasso di crescita in questo momento che si attesta almeno a 900 milioni l'anno per cui sicuramente le masse diventano sempre più significative sempre più importanti e aumentano la responsabilità della gestione di 400 mila metalmeccanici 400 mila aderenti abbiamo fatto un'evoluzione molto importante nel 2017 passando per quanto riguarda le gestioni finanziarie puramente finanziarie in gestioni completamente di tipo total return per cui innanzitutto fondo pensione negoziale caratterizzato dalla delega di gestione per cui abbiamo il dovere di segnare quello che è la strada maestra e poi appunto andare a cercare i migliori esponenti dei gestori in cui delegare la gestione passare alla gestione total return si è cercato innanzitutto di individuare la strada nel limitare il livello di rischio spesso anche rispetto a quello che era stato il passato con la volatilità che è iniziata anche a caratterizzare investimenti prima non caratterizzati di una certa volatilità e parlo ad esempio di quello che è stato e di quello che è attualmente la volatilità per esempio nei titoli di Stato italiani noi precedentemente eravamo molto investiti su bond come attualmente ma molto esposti sul bond italiano per cui in alcuni contesti di mercato siamo arrivati ad avere circa il 50% dell'investimento in titoli italiani e sicuramente questa è stata un'indicazione spero che non ci sia nessuno del MEF in sala sicuramente è stata un'indicazione nel rivedere quello che è il concetto di diversificazione questo grazie anche all'evoluzione normativa che sicuramente continua a essere anche molto sfidante per i fondi pensione negoziali perché abbiamo una normativa che si evolve e continua a evolversi appunto la possibilità anche di investire in asset e in zone geografiche che prima c'erano plecuse sicuramente ha potuto massimizzare la possibilità di passare la qualità del passaggio al total return per cui oltre a una gestione total return fondamentalmente cercando di togliere quello che è il vincolo del benchmark al gestore di dare maggior libertà di azione maggior dinamismo nella possibilità di rispondere ai cambiamenti del mercato è stato anche l'occasione per ampliare appunto la diversificazione del portafoglio con l'introduzione di AILD con l'introduzione di Emerging Market per cui diciamo dal punto di vista puramente liquido abbiamo un portafoglio a parer mio correttamente diversificato e che sicuramente risponde può rispondere correttamente ai cambiamenti del mercato quello che cambia che manca sicuramente al momento attuale è l'investimento private confermo che noi essendo un investitore istituzionale di lungo periodo sicuramente ben rispondono questi investimenti che vengono definiti adesso pazienti e quindi di lungo periodo è indubbio che anche la categoria a cui noi rispondiamo creiamo fondamentalmente previdenza complementare per i metallomeccanici ben si adatta ben risponde appunto alla possibilità di investire anche sul tessuto industriale italiano è un percorso che comunque Cometa sta affrontando abbiamo nel 2020 l'idea di approfondire attraverso dei seminari attraverso dei approfondimenti soprattutto per quello che è la consapevolezza del board la consapevolezza di poter iniziare un investimento consapevole su questo tipo di asset è un tema cruciale perché lo si diceva fin dall'inizio si parla di finanza ma si parla tanto si sta parlando già anche tanto nei vostri interventi di economia reale che è quello che sempre viene almeno talvolta imputato alla finanza di essere troppo distante in realtà gli investimenti anche e soprattutto nel mondo degli investitori istituzionali si stanno portando in questa direzione e poi avremo modo anche nelle altre tavole rotonde evidentemente di affrontarle con Joseph Camilleri Executive Head di Bank of Valletta Asset Management facciamo un salto facciamo un piccolo viaggio non è lontanissima la valletta rispetto a Milano però ci piaceva l'idea di nell'ottica di modelli di investimento innovativi capire quali siano le caratteristiche anche di società maltesi in questo settore e se in un'ottica in questo caso ci spostiamo in un'ottica più internazionale le dimensioni dell'isola possono risultare riduttive per un investitore di un certo peso ok grazie Alessia anche per questa opportunità ovviamente per essere per essere qua beh in effetti Malta è un mercato di frontiera non è neanche un mercato emergente perché ovviamente è molto piccolo dato le sue dimensioni ovviamente le dimensioni di Malta del mercato finanziario e dell'attività della borsa sono in effetti quelli che sono la domanda che mi poni se questo è un fattore diciamo limitativo oppure se questo comporta delle opportunità bisognerebbe per poter risponderlo nel modo migliore a mio avviso considerare un po' le caratteristiche di Malta la fisionomia anche la sua economia ovviamente come dicevo è un piccolo stato meno di 500.000 abitanti sul territorio ma se uno dovesse guardare un po' l'andamento economico negli ultimi cinque anni in media il PIL è cresciuto di oltre 6% ogni anno dopo aver contabilizzato l'inflazione e anche secondo la Commissione Europea per quanto riguarda le previsioni per i successivi due anni Malta supererà tutti gli altri stati nella zona euro per quanto riguarda la crescita economica che supererà di tre volte tanto la media della zona euro questo indubbiamente mette Malta come l'economia che sta avendo la crescita diciamo maggiore nel territorio ma oltre l'andamento del PIL e la crescita anche se uno dovesse guardare altre caratteristiche per esempio la disoccupazione che è fisiologica a Malta in effetti ci sono ben 60.000 stranieri che lavorano sul territorio su un forza lavoro di poco più di 200.000 persone in effetti di queste 60.000 l'ultimo dato credo che fosse circa 10.000 italiani che lavorano sul territorio solo 10 anni fa si contavano 500 oggigiorno sono ben 10.000 anche per quanto riguarda l'avanzo di bilancio di Malta per gli ultimi tre anni di seguito consecutivi c'è stato un avanzo di bilancio di 3% il che ovviamente sta anche riducendo il debito pubblico che ormai il debito pubblico di Malta è sceso a 43% del PIL ovviamente in confronto con l'85-86% del debito pubblico di altri stati nella zona euro direi che è un dato molto significativo anche il rating del debito pubblico A-rated da parte di credit rating agencies con un outlook anche positivo perciò a mio avviso la parola chiave a Malta è la sostenibilità nel garantire la continua crescita il mantenimento di questa crescita economica che Malta sta avendo grazie a un'economia ben diversificata e anche innovativa come dicevi tu prima in effetti l'economia di Malta non si basa su un settore economico unico ma è molto diversificata ovviamente i servizi finanziari sono uno dei pilastri più importanti per la nostra economia come lo è il turismo il consumo interno c'è anche la farmaceutica manutenzione di aerei i gaming fintech sono settori economici ben diversi che compongono la nostra economia e ovviamente tutto questo successo è riflesso dal performance economica delle società che adoperano sul territorio di Malta e che anche si sono quotati alcuni di loro sulla borsa maltese e poi mettono bond sul mercato direi che non è inusuale per investitori internazionali e istituzionali anche fondi pensione che nel loro portafoglio nella diversificazione dei loro portafogli non abbiano una rappresentanza di questo successo economico che sta avendo Malta in effetti non credo che investitori istituzionali fondi pensione in effetti investono sia in titoli maltesi obbligazionari piuttosto che nel nazionariato e per tal motivo ovviamente non stanno partecipando in questo successo economico che Malta sta avendo e direi che questa l'economia di Malta e anche l'andamento del mercato finanziario c'è una bassa correlazione con indici internazionali per esempio se si guarda il Molta Stock Exchange Index in confronto all'S&P 500 o Euro Stocks 50 la correlazione è molto bassa e perciò avere un exposure nel mercato maltese diversifica anche il rischio per investitori istituzionali che investono in titoli maltesi in effetti la nostra società se posso dire due parole su BOV Asset Management noi siamo una società interamente controllata da Banco Valletta la banca primaria sul territorio siamo una società di gestione abbiamo in gestione poco più di un miliardo di euro ovviamente non sono numeri molto significativi ma per la nostra piccolezza se posso chiamarla così un miliardo è un numero molto molto importante per noi noi gestiamo sia fondi usage sia gestiamo portafogli per clientela istituzionale anche gestione di fondi pensione e anche offriamo servizi di usage manco platform per soggetti terzi di questo miliardo direi che circa la metà poco più della metà stiamo parlando di 500 milioni sono investiti proprio in titoli maltesi in queste società che dicevo prima che sono quotate in borsa piuttosto che emettono dei bond a Malta eccetera e perciò tramite i nostri prodotti i nostri servizi possiamo dare accesso a clientela istituzionale internazionale che vorrebbe anche parteciparne nel successo che Malta sta avendo anno dopo anno perfetto abbiamo avuto quindi questo viaggio un attimo all'interno del contesto maltese e delle sue opportunità quindi anche qui un modello alternativo anche rispetto a quelli che citavamo ritorniamo a parlare con un rappresentante di un fondo pensione il fondo pensione complementare Pegaso Andrea Mariani voi siete tra i protagonisti di un di un progetto un progetto particolare il progetto Iride che vi vede coinvolti proprio nell'investimento nelle cosiddette classi illiquide che è un po' quel cambiamento di paradigma di cui si accennava prima ecco qual è l'esperienza che state testando con mano prima magari qualche accenno a quello che è il vostro fondo buongiorno grazie Alessia di questa occasione di poter dialogare in questo panel così interessante anche eterogeneo sono stato agevolato da Libero che ha già spiegato che cos'è un fondo contrattuale noi siamo un cugino minore di Cometa che è il più grande dei fondi contrattuali noi siamo un fondo di medie mediane dimensioni rivolto ai dipendenti del settore dei servizi di pubblica utilità quindi qui a Milano i dipendenti di A2A sono nostri iscritti ad esempio il nostro patrimonio gestito è un decimo di quello di Cometa un miliardo e cento milioni comparato agli undici miliardi 33 mila iscritti chiaramente la scala nell'investimento finanziario rileva noi cerchiamo di diversificare fortemente il nostro patrimonio come è stato ben illustrato anche da Libero per quanto riguarda Cometa nel tempo lo abbiamo ampliato notevolmente l'universo investibile oggi per la parte azionaria e obbligazionaria è riferimento il globo quindi un investimento globale aggregate nel caso della parte obbligazionaria e all countries nel caso della parte azionaria però se andiamo a vedere dove non investiamo c'è ancora molto su cui noi non investiamo perché diversificare significa anche però assumersi rischi rischi che devi essere in grado di gestire controllare e monitorare non investiamo per esempio in frontier markets non investiamo a Malta ad esempio però investiamo in emergenti che è un'innovazione degli ultimi anni investiamo molto poco se non nulla nelle small caps che sono sempre aziende quotate però con un profilo diverso dal punto di vista della liquidità e non investiamo fino ad oggi in asset illiquide private markets in senso ampio essendo più piccoli abbiamo più problemi di sostenibilità dei costi quando si va a diversificare su asset class che richiedono competenze specifiche noi sono anni che stiamo ragionando su come entrare in questo settore e poi due anni fa circa siamo partiti con questo cosiddetto progetto iride con altri quattro fondi pensione fondi energia fondo previ moda fondo gomma plastica e fondo cer fondo della ceramica fondi che sono in aree contrattuali limitrofe alle nostre dal lato della contrattazione collettiva per condividere risorse e intenzioni nell'investire innanzitutto in private equity abbiamo scelto una modalità non usuale di investire in private equity il mandato di gestione come anticipato bene libero noi non possiamo investire direttamente sui mercati quotati in teoria potremmo investire direttamente in fia di private equity private debt infrastrutture perché la legge ci consente questa forma di investimento diretto però è una forma poco usuale per come siamo stati creati per noi la delega di gestione è molto più naturale e l'abbiamo voluta riproporre anche nella selezione dei fia di private equity abbiamo fatto una gara per 216 milioni l'abbiamo portata a termine abbiamo individuato un gestore che è noi Berg e Berma stiamo definendo l'aspetto contrattuale e speriamo nei primi mesi del 2020 di fare i primi conferimenti al gestore che a sua volta poi farà sottoscriverà i primi commitment in alcuni dei fondi che ha selezionato per nostro conto e che sottoscriverà per nostro conto la dimensione di questo investimento è quella europea ma con un sovrappeso sull'Italia proprio perché comunque crediamo che questa è una buona occasione per assumersi un maggiore bias verso l'Italia i nostri portafogli liquidi non hanno un bias significativo sull'Italia al di là del peso naturale che hanno nella capitalizzazione e nel debito mondiale qui crediamo che abbia un senso avere un sovrappeso perché? perché l'economia italiana è molto più presente nella parte non quotata e quindi ha senso anche andare a cercare del valore lì dove probabilmente ce n'è tanto il tessuto delle medie e piccole imprese che se crescono arrivano in borsa favoriscono anche diciamo una crescita del segmento quotato sempre però con il chiaro obiettivo di migliorare il profilo rischio di rendimento dei nostri iscritti noi non dobbiamo avere altri fini che quello di gestire bene le risorse dei nostri iscritti non scegliamo di investire di più in Italia perché dobbiamo sussidiare un sistema noi scegliamo di investire di più in Italia perché vediamo un'opportunità di rischio di rendimento da cogliere questo è molto importante pensate che tra alcuni anni un dipendente di un'azienda utility che magari non ha altre forme di risparmio o ha delle forme di risparmio molto lineari si potrebbe trovare un fondo pensione così ben diversificato da avere anche elementi di private equity di private debt infrastrutture a costi decisamente contenuti per il tipo di impegno che poi avrà lui nel fondo pensione beh direi che è veramente un cambio di paradigma rispetto a quanto si diceva solo a pochi anni fa dottor Mariani dall'assit perfetto per ritornare per questo secondo giro un po' più breve con Alessandra Franzosi le PMI sono state citate un altro termine che è ricorso è il tema della sostenibilità ebbene PMI e sostenibilità sono per voi elementi chiave per sviluppare ulteriori appunto vie di investimento è così esattamente sono proprio le due come dire parole chiave con la quale abbiamo cercato di intessere un dialogo costruttivo con gli investitori istituzionali del paese sempre nel rispetto come giustamente ha detto il dottor Mariani di quelli che sono i loro obiettivi finali e i loro obblighi fiduciari nei confronti dei loro iscritti quindi stiamo sempre parlando di strumenti che devono restare all'interno dell'alveo delle modalità di allocazione di mercato il tema della sostenibilità secondo me è un bel modo per pensare eventualmente nel mondo dei loro investimenti cosiddetti liquidi o cor a una a guardare con un occhio di riguardo gli investimenti domestici rispetto ai quali può eventualmente essere interessante pensare effettivamente di sovrappesare qualcosa laddove ci sia una chiara mission di sviluppo più sostenibile del nostro paese non a caso mi piace ricordarlo abbiamo provato a fare questo piccolo esperimento nel luglio scorso qui in Borsa dove proprio sia libero che Andrea sono venuti insieme ad altri fondi pensione negoziali del nostro paese a fare engagement diretto con alcune delle nostre grandi società quotate proprio per dare un segnale forte della loro presenza su questi temi e di dare un segnale forte di un'apertura di dialogo su questi temi con il sistema produttivo del paese il secondo tema è sicuramente il tema delle PMI giustamente ha un senso economico un bias se volete domestico rispetto alle PMI sia per un tema di maggiore prossimità e quindi anche si può che si porti dietro economie di scala e di scopo ragionevoli anche dal punto di vista economico e ha un senso per la diffusione delle PMI su questo fronte il lavoro che è stato fatto nel corso degli ultimi due anni e che si concluderà a gennaio del 2020 è stato quello di aver promosso un tavolo di lavoro sull'investimento in economia reale italiana un tavolo di lavoro che aveva essenzialmente l'obiettivo di mettere a fattore comune le esperienze di superare la narrativa del non si può fare ma di lavorare insieme per trovare le modalità migliori e il progetto Iride mi sembra veramente un bel esempio che ha portato a fattore comune la potenzialità che hanno i fondi pensione che è quello che non sono in una relazione competitiva per cui possono lavorare in modo collaborativo per raggiungere un obiettivo e effettivamente anche in questa direzione poi sicuramente anche le riflessioni che sta facendo Cometa che con la sua SAIS ovviamente ha anche una bella responsabilità quando si muove stanno effettivamente segnalando che la direzione è quella giusta il compito nostro è mettere a disposizione la carta investibile perché se è vero che loro stanno facendo il grande sforzo di aprirsi a questa asset class è altrettanto vero che bisogna poi avere sane e efficaci opportunità di investimento nel paese e opportunità di investimento che siano adatte nella forma e nelle modalità a un investimento istituzionale che si muove come giustamente dicevano loro all'interno di un framework regolamentare di tutela degli iscritti che è estremamente cogente sempre illuminanti e danno veramente tanti spunti i commenti di Teresa Franzosi Stefano Colombo proprio in quest'ottica allora come si può portare valore attraverso gli investimenti soprattutto se parliamo di piani di accumulo o decumulo e un tema che non è ancora emerso ma che è centrale rispetto anche ad un survey che PwC nelle scorse settimane ha reso nota sul grado di soddisfazione da parte degli investitori istituzionali e retail dei propri gestori ebbene una domanda e una richiesta che viene fatta in più ai propri gestori è l'innovazione tecnologica essere più presenti su quello ebbene voi che tipo di strumenti tecnologici adottate per anche i vostri modelli distributivi grazie per la domanda Alessia diciamo che partendo dalla prima parte ovvero accumulo e decumulo si inserisce all'interno del tema di questa di questa tavola rotonda ovvero dei modelli di investimenti innovativi e come il tema della previdenza entra diciamo nella gestione del welfare del singolo individuo in Lake Mason è un tema che abbiamo sviluppato molto negli ultimi anni e sarà un nostro focus anche nel 2020 partendo dalla fase di accumulo è un tema che tanti players stanno sviluppando che vanno poi a concorrere alla ricchezza dell'individuo quando si trova a entrare diciamo nella sua fase pensionistica l'obiettivo nostro con diciamo le nostre strategie è quello di cercare di andare a proteggere il montante per evitare che venga impattato da una forte crisi finanziaria quindi noi lo lo applichiamo con diciamo un modello a tre step ovvero un asset allocation strategica che va a accompagnare l'individuo verso il momento della pensione andando gradualmente a ridurre il rischio un asset allocation tattica che agisce sull'asset allocation strategica senza andare a snaturarla in grado di cogliere quelle che sono le opportunità presenti sui mercati finanziari e un rischio per lei che entra solo nella fase finale diciamo della fase di accumulo perché non vuole andare diciamo a limitare le opportunità presenti sui mercati ma vuole appunto proprio in quest'ultima fase andare a limitare quelli che possono essere i rischi di una forte correzione sui mercati perché il nostro obiettivo è quello di cogliere le opportunità ma allo stesso tempo andare a proteggere il portafoglio e consegnare diciamo alla persona che va in pensione un portafoglio di una dimensione sufficiente a soddisfare i propri bisogni il tema di decumulo è invece stato trattato storicamente in maniera un po' più semplicistica quello che abbiamo cercato di fare attraverso un modello quantitativo sviluppato da una delle nostre affiliate è quello di prendere in considerazione tutto quello che è il benessere dell'individuo in un contesto dove la nostra vita post lavorativa si è allungata e dove arriviamo anche in una condizione di maggiore salute ovvero prendiamo in considerazione quella che è l'età anagrafica quella che è il proprio patrimonio quella che sono le rendite finanziarie rendite da diciamo pensionistiche di primo livello auspicabilmente di secondo livello quindi con la previdenza complementare e il rischio longevità per cercare di garantire a ogni individuo quello che può essere diciamo il suo consumo disponibile e quanto può effettivamente allocare ai propri consumi in una fase di vita soprattutto quella iniziale della vita pensionistica in cui stiamo bene e abbiamo volontà di spendere l'obiettivo è quello di diciamo mantenere una ricchezza complessiva sufficiente ad accompagnare l'individuo a fine vita ma allo stesso tempo avere una ricchezza che viene consumata quando ha senso essere consumata ovviamente queste diciamo soluzioni molto personalizzate vanno accompagnate con dei modelli distributivi adeguati e molto customizzati in grado di cogliere quelle che sono le specificità e le esigenze del singolo individuo come Legg Mason abbiamo preso delle partecipazioni strategiche negli ultimi anni per esempio in Gran Bretagna abbiamo preso una partecipazione strategica in Embark che è il leader nel fornire piani pensionistici individuali distribuiti tramite gli IFA quindi i financial advisor indipendenti abbiamo acquisito una partecipazione strategica in Asia in Quantifid che è un operatore specializzato nell'affiancarsi a diciamo partner distributivi tradizionali e creare delle piattaforme diciamo specializzate su quelle che sono le esigenze di investimento del singolo individuo quindi goal based investing team based investing risk based investing e mi permetto di pensare che anche in futuro player come i fondi pensione si doteranno diciamo di questi tool digitali in grado di migliorare la connessione con l'iscritto e fornire una soluzione che possa essere personalizzata sulle esigenze dell'iscritto ecco questa dichiarazione mi fa pensare che non ho ancora citato un libro che è oggi disponibile che potete trovare anche nel foyer un libro che è stato realizzato in collaborazione con la CFE Society professione finanza la stessa le fonti nella persona di Giulia Andreoli che in questo momento si trova alla regia un libro che si intitola destinazione previdenza e che è stato promosso proprio da Legg Mason che si sente particolarmente vicino a queste tematiche quindi vi invito poi a prendere anche uno di questi volumi che è freschissimo di stampa che presentiamo proprio qui in anteprima bene in questo momento mi piacerebbe fare dialogare i due fondi perdonatemi se vi identifico con il fondo a proposito di quello anche che diceva la dottoressa Franzosi sul tema della sostenibilità criteri ISG che insomma da una chiacchierata preventiva con entrambi sappiamo essere particolarmente cruciali appunto per i fondi pensione prego puoi iniziare libero allora tema tema dell'anno tema del periodo al di là del diciamo che oltre tassi negativi l'altro tema utilizzato sia da clienti istituzionali sia dai gestori e sicuramente l'SG in Cometa c'è una forte esperienza a riguardo nata dal 2010 con l'adesione ai PRI io sono l'anima critica all'interno di Cometa perché non sono mai stato un entusiasta ma questo percorso che abbiamo avuto quasi decennale in Cometa sicuramente mi ha avvicinato e sicuramente mi ha fatto apprezzare l'evoluzione che si è avuta sul discorso di sostenibilità perché sicuramente all'inizio era una nicchia all'inizio sembrava quasi un discorso tra virgolette religioso adesso sicuramente i risvolti quantitativi i risvolti soprattutto di considerare la sostenibilità come un'analisi non finanziaria delle società e passare a un'analisi più quantitativa è sicuramente dal mio punto di vista nelle corde nelle mie corde e ritengo che sia un percorso ormai che la finanza sta percorrendo e non vi è una Brexit non si può tornare più indietro da questo però ci sono alcuni rischi sicuramente un rischio in questo momento è avere una sorta di bolla di offerta di il classico greenwashing e da questo punto di vista noi stiamo appunto molto attenti qual è l'approccio di Cometa su questo tema noi appunto nel 2010 abbiamo aderito a Epirai nel 2012 ci siamo forniti delle nostre linee guida innanzitutto è l'istituzione che deve portare avanti dei criteri di sostenibilità l'obiettivo è che siano le aziende in cui noi investiamo a cambiare paradigma non siamo interessati ad avere lo strumento o il comparto con l'etichetta ISG vogliamo incidere su quelle che sono le aziende su cui noi investiamo e per questo motivo fondamentalmente appunto come nell'esperienza che abbiamo avuto qui è l'engagement quello che Cometa ha interpretato come punto come sua leva per intervenire facciamo almeno una volta l'anno un'analisi del portafoglio dal punto di vista di rating ISG e quando vi sono delle controversie particolari cerchiamo di intervenire su questo o sponsorizzando appunto delle cordate anche con gli altri fondi pensione con l'associazione dei fondi pensioni o facendo parte di cordate anche a livello internazionale quello che ricordo diciamo la prima esperienza che sicuramente è stata molto importante è stato un intervento su Chevron rispetto a alcuni disastri ambientali che stava facendo in Sud America credo che l'engagement e quindi comunque influenzare indirettamente su quelle che sono le scelte di investimento e quindi non cambiando il profilo di rischio rendimento sia una via quella che sta percorrendo Cometa sicuramente il diritto di voto ad esempio è un tema molto importante che ancora noi affrontiamo con molta attenzione con parsimonia piccoli passi su cui magari ci troveremo a dibattere il prossimo anno Andrea Mariani qual è la vostra diciamo applicazione dei criteri ESG sì con Libero ci troviamo spesso a discutere di questo tema io sono un po' più entusiasta di lui un po' più ottimista noi siamo come Pegaso siamo partiti un po' dopo Cometa ma comunque siamo diventati aderenti a IPRI come secondo fondo pensione italiano che ritengo comunque un bel primato perché ad oggi credo che siamo ancora pochi ad aver fatto questo passo abbiamo fatto tutta un'altra serie di passaggi importanti soprattutto negli ultimi due tre anni vogliamo caratterizzare l'azione del fondo sempre di più sotto il profilo della sostenibilità degli investimenti dimensione che riteniamo non sia più non finanziaria o extra finanziaria è una dimensione dell'azienda nel dialogo che abbiamo fatto a luglio scorso qui in borsa è emerso che l'idea che esista un'economia finanziaria è un'economia reale è falsa un'azienda quotata è reale quanto una non quotata anzi forse anche più tangibile più materiale sotto alcuni profili perché deve rendi contare molto di più questa dimensione che può aggiungere valore chiaramente è molto importante per individuare anche dei rischi i rischi che vengono da una mancata considerazione della sostenibilità da parte di un'azienda sono rischi sempre più rilevanti anche per i gestori è per questo che sta cambiando il paradigma perché ormai viene considerato un elemento del rating un elemento dell'analisi di impresa molte agenzie che prima erano considerate ISG sono state acquistate e integrate in agenzie di rating ordinarie perché sono elementi che aiutano a orientare le scelte di chi deve investire a maggior ragione anche nella parte non quotata dove non ci sono gli stessi obblighi dei mercati regolamentati la simmetria informativa è più forte quindi stare attenti al fatto che le aziende considerano questi elementi è sicuramente un segnale utile per individuare la qualità dell'azienda dove vai a investire noi cosa stiamo facendo una serie di graduali e crescenti sforzi abbiamo l'anno scorso inserito in tutte le nostre convenzioni un'integrazione minima di applicazione di criteri ESG da parte dei nostri gestori che sono tutti sottoscrittori dei PRI e quindi in quanto sottoscrittori dei PRI si impegnano su tutto il patrimonio gestito a essere sostenibili in qualche misura ecco quella qualche misura noi l'abbiamo portata nel nostro patrimonio e quindi controlliamo ci facciamo rendicontare anche questo aspetto ieri abbiamo incontrato sei dei nostri nuovi gestori in ogni incontro ci deve essere anche questa rendicontazione rispetto a parametri di sostenibilità siamo per mandare a tutti i nostri iscritti una pubblicazione su come intendiamo l'investimento sostenibile perché lo vogliamo valorizzare anche rispetto agli iscritti vogliamo fare tante cose e graduali e crescenti non non ultima da maggio io sono nel consiglio del forum della finanza sostenibile il fondo pensione ha ritenuto questo un passaggio utile per la crescita del fondo pensione e questa è anche una responsabilità importante una responsabilità importante a questo punto chiuderei con Giuseppe Milleri se ha appunto una sua idea dell'applicazione anche di queste tematiche ISG e della sostenibilità in generale e poi chiudiamo sempre con quelle che possono essere delle peculiarità di Malta rispetto magari ad altre giurisdizioni che possono renderla attrattiva sì grazie allora prima dicevo che Malta era un mercato di frontiera ma oltre questo è anche uno strumento di mercato direi Malta si è posizionata negli ultimi anni quale giurisdizione a mio avviso idonea per gestori di dimensioni medio piccole in effetti oltre alle normative comunitarie alle quali ovviamente aderiamo noi anche come IUSES piuttosto che EAFMD Malta ha anche una normativa per quanto riguarda nel settore alternativo quelli che sono che gli chiamiamo i sottosoglia fondi o gestori che sono sottosoglia cioè non sono catturati nella rete della direttiva EIFMD che ovviamente ha un peso regolatorio abbastanza direi pesante e questo ha permesso a Malta di attirare verso di sé un numero notevole di operatori internazionali da vari stati dall'Italia alla Svizzera alla Gran Bretagna ma quasi da tutti gli stati europei almeno dalla nostra esperienza perché noi forniamo servizi a queste società che hanno strutturato dei fondi alternativi a Malta in un contesto di una normativa molto flessibile quello che ha tentato di fare Malta è di emulare un po' il concetto tipicamente chiamato offshore come quello di centri tipo Cayman piuttosto che BVI eccetera dove ovviamente le caratteristiche sono costi concorrenziali efficienza nel gestire le pratiche per l'eventuale autorizzazione flessibilità anche per quanto riguarda investment restrictions che non ci sono in questi fondi alternativi non c'è limite di leva non c'è necessità di diversificazione è una struttura che chiamiamo professional investor funds che è stata direi gettonata da vari operatori internazionali che avranno trovato altre giurisdizioni più citate come Lussemburgo magari proibitivamente troppo costosi e allora Malta come strumento di mercato ha permesso a questi di poter entrare nel mercato con i loro prodotti noi riteniamo che oggigiorno Malta oltre ad essere posizionata quale giurisdizione idonea per queste tipologie di fondi di dimensioni medio piccole abbiamo anche visto in anni più recenti anche la strutturazione di altre attività correlate in effetti oggigiorno ci sono ben 25 26 fund administration companies società di amministrazione fondi che ovviamente forniscono servizi amministrativi sia fondi maltesi ma anche fondi esteri abbiamo visto anche la nascita e la costituzione di circa 140 società di gestione di diritto maltese che gestiscono sia fondi di diritto maltese ma anche fondi esteri molti altri si sono stabiliti a Malta come manco platforms cioè full scope pay firm piuttosto che usage managers che forniscono servizi a soggetti terzi che vorrebbero entrare in quel settore ma non abbiano l'autorizzazione dal proprio regolatore per poter fornire questi servizi per tal motivo oggigiorno Malta si presenta quale giurisdizione dove gestori di dimensioni medio piccole possono avere accesso al mercato dei fondi grazie a una flessibilità direi abbastanza notevole a un regolatore che adotta una politica molto pro business in un contesto di costi molto concorrenziali e grazie anche a un'alleanza che come mi piace chiamarla da me un'alleanza tra le istituzioni governative la politica del governo che promuove questo settore il regolatore che ha tutto l'interesse di fare un successo del settore e noi operatori che diamo feedback in base continuativa al regolatore e che agisce e reagisce alle nostre indicazioni e credo che ormai Malta sia stabilita quale strumento di mercato per vari operatori sì anche poi su tematiche ad esempio come quella della blockchain siete stati tra i primi anche ad avere una legislazione sì quelli sono altri settori altri settori però nel fintech blockchain distributed technologies tutti quelli stanno contribuendo alla crescita di cui parlavo anche nel mio primo intervento e sono mondi che adesso insomma sempre di più vanno ad incrociarsi il tempo a noi dedicato è ahimè finito non ce la facciamo a fare il giro di domande ma i nostri relatori restano in sala per cui approfittate magari anche durante il momento del coffee break per porre loro alcune domande io ringrazio nuovamente Alessandra Franzosi Stefano Colombo Libero Giunta Joseph Camilleri e Andrea Mariani per essere stati con noi poi ritroverete questa tavola rotonda disponibile sulle fonti tv nei prossimi giorni nel frattempo con voi faremo magari anche qualche intervista adesso per approfondire grazie ancora per averci seguito passo e cedo la parola a Sara Silano di Morningstar che guarda caso parlerà proprio di tematiche SG e di sostenibilità per cui insomma l'assist c'è stato grazie